I fenomeni di maltempo che si sono abbattuti nella nostra regione negli ultimi giorni dovrebbero esaurirsi a breve. Superrata la notte, infatti, le condizioni meteorologiche dovrebbero migliorare già a partire dalla giornata di domani. Nel frattempo le piogge intense hanno causato diversi effetti al suolo, con estese allagamenti in diverse zone della regione, sia in destratagliamento che nella piana di Osoppo. Nella pedemontana si sono verificate cadute di alberi che hanno causato l'interruzione di alcune strade comunali. Le precipitazioni sono state intense, le nostre previsioni dicono che arriveranno al termine dell'evento attorno ai 250 mm, hanno colpito la Carnia, Tolmezzo, le Prealpi, Val Tramontina e Cellina, quindi la situazione è abbastanza sotto controllo. Naturalmente le aree di maggiore osservazione sono la bassa Pordenonese, la Carnia e le Prealpi. Alcune frane invece hanno interessato la pedemontana ed in particolare i comuni di Andreis, Fanna, Faedis, Tarcento ma anche la zona montana di Ravascletto e Comelians. Prosegue il servizio di piena sul fiume Tagliamento e sul Meduna. Il tagliamento a Venzone presenta un livello superiore al limite di primo presidio e si prevede il passaggio del picco di piena latisana nelle prime ore della mattina di domani con valori compresi tra gli 8 e i 9 metri. Altezza che però secondo il primo cittadino di latisana non costituisce allarme. Oltre 250 le chiamate legate al maltempo al 212 e 600 i volontari impiegati sul territorio regionale pronti a intervenire anche nelle prossime ore in caso di nuovi effetti al suolo. C'è ancora Scirocco, c'è la neve che si sta sciogliendo, quindi un evento importante che però ci auguriamo grazie anche al lavoro che stiamo facendo. Ravedi sta funzionando bene quindi probabilmente ci potranno essere delle esondazioni alle aree golenali per quanto riguarda l'acqua ma situazioni di rilevante criticità al momento non ci sono.